Tutti i grandi player, partendo da Google, Amazon, Facebook, Instagram, i più recenti come TikTok, ci hanno insegnato che imparare dal consumatore fa la differenza anche nel produrre e nel creare delle storie intorno al prodotto. Il prodotto quindi resta funzione del mercato perché il cliente, come diceva qualcuno molto più importante di me, non è importante ma è l'unica cosa che conta.